non mi andava di passare dal bar ho detto ma perché mangiare sempre le stesse cose caffè, cornetto sono passato dalla fruttivendola con 2 euro ho preso una banana un po' di noci un po' di fragole e un po' di fave con solo 2 euro mangiamo biologico ragazzi, ciao!